Carissimi amici e amiche, siamo alla ventiduesima puntata del ciclo di Catechesi indicato ai Novissimi. Abbiamo cominciato la volta scorsa a trattare dei cosiddetti Novissimi Mundi, cioè di quello che accadrà alla fine della storia, quindi non semplicemente ad ogni singolo essere umano a termine della vita terrena, ma alla fine della storia. La volta scorsa abbiamo introdotto un po' il tema della parousia e dato uno sguardo a questi misteriosi due combattimenti escatologici, ricordando che ci sono serie probabilità che siamo giunti alla fase del primo combattimento escatologico che stiamo vivendo noi, in questo momento di pesante e forte azione del male, che ormai è sotto gli occhi di tutti, e che appunto rappresenta il primo grande scontro dopo la venuta di Cristo tra il regno delle tenebre e il regno della luce. Uno scontro che si concluderà con la vittoria del Signore e con questo misterioso, visto la volta scorsa, regno dei mille anni, che non è da intendere ovviamente in senso letterale, risurrezioni di morti o vedremo anche presunte venute intermedie visibili del Signore, perché questa dottrina come vedremo è ritenuta quanto meno pericolosa dal Magistero della Chiesa, ma ci sarà appunto un tempo in cui Cristo regna sulla terra e personalmente ho già espresso credo la volta scorsa la mia convinzione che questo potrebbe, ci sono molte probabilità, che così sia, far riferimento al regno della divina volontà, al compimento sulla terra di quella parte del Padre Nostro che stiamo recitando da duemila anni. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà a cominciare così in terra. Dopo che Satana sarà sciolto per un altro po' di tempo, le forze del nemico, a quanto ci è dato di comprendere dalla rivelazione, si riorganizzeranno e scateneranno l'ultima offensiva, che è una cosa distante da noi come vedremo anche questa sera, perché questo accada ci deve essere prima la conversione in massa di Israele, come San Paolo profetizza nei capitoli 9-11 della lettera ai Romani e quindi non è certamente cosa che riguarda noi, ma però preghiamo fin da adesso perché stiamo tribolando noi in questa fase delicata, ma questa non è niente a che vedere con la grande tribolazione che precederà, proprio la parusia parusia. Il primo combattimento escatologico termina con una rinascita della Chiesa e un'instaurazione vera, anche se sempre terrena, del Regno di Cristo. Il secondo termina con l'instaurazione definitiva del Regno di Cristo, appunto con la vita del mondo che verrà, con la fine del mondo e quindi con la separazione degli eletti dai dannati definitiva, quindi queste grandi trasformazioni sono precedute da grandi sofferenze. Abbiamo visto che la storia attraverso la bipartizione in duemila anni che Gesù suggerisce attraverso gli scritti della serva di Dio Luisa Piccarreta prevede questi passaggi, un momento clou di devastazione da un punto di vista della potenza del male e poi la sconfitta di esso e un nuovo inizio. Ci restano da vedere, prima di concludere la parte biblica e poi passare già alla parte magisteriale, quindi a cosa la Chiesa attraverso i documenti ufficiali di concili e di Pontefice ha insegnato sulla parousia, ci restano da vedere però alcuni altri passaggi della Sacra Scrittura, certamente molto affascinanti, anche se molto misteriosi, che affermano che la venuta di Cristo, quindi la parousia, non può avvenire se prima non si manifesta l'Anticristo, la famosa venuta dell'Anticristo, sono diversi i passi della Sacra Scrittura che ne parlano, e poi prima della conversione di Israele. I passi sull'Anticristo le andiamo a vedere tutti, si trovano nella seconda lettera di San Paolo e poi nei testi giovanei, sia nel libro dell'Apocalisse ma anche nella prima e nella seconda lettera di San Giovanni. Leggiamo i testi, a cominciare dal primo, che è appunto tratto dalla seconda lettera di Tessalonicesi, capitolo 2, versetti dal 3 al 10. Nessuno vi inganni in alcun modo. Prima infatti verrà l'apostasia e si rivelerà l'uomo dell'iniquità, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra ogni essere chiamato e adorato come Dio, fino a insediarsi nel Tempio di Dio pretendendo di essere Dio. Non ricordate che quando era ancora tra voi io vi dicevo queste cose e ora voi sapete che cosa lo trattiene, perché non si manifesti se non nel suo tempo. Il mistero dell'iniquità è già in atto, ma è necessario che sia tolto di mezzo colui che finora lo trattiene. Allora l'empio sarà rivelato e il Signore Gesù lo distruggerà con il soffio della sua bocca e lo annienterà con lo splendore, vedete, della sua venuta. Lo splendore della sua venuta. In greco c'è proprio parusias. Splendore della sua venuta. La venuta dell'empio avverrà nella potenza di Satana, con ogni specie di miracoli e segni e prodigi mezzogneri e con tutte le seduzioni dell'iniquità, a danno di quelli che vanno in rovina perché non accolsero l'amore della verità per essere salvati. Importantissima questa cosa. Allora, io non mi avventuro, sapete, questi pari, quando, dove, quando verrà, come sarà, chi sarà. Quando si parla di questi eventi, almeno io personalmente, non me la sento proprio di imbarcarmi in possibili azzardi, d'accordo, circa chi, dove, quando e come. Sono personalmente convinto che questi brani, tutti quanti i brani che possiamo definire apocalittici, quindi quelli che parlano di eventi futuri, inquietanti, catastrofi, cose di questo genere, si possono, innanzitutto, perfettamente comprendere soltanto col senno del poi, cioè dopo che saranno accaduti, oppure mentre stanno accadendo, si comincia a delineare chiaramente il quadro. Quando arriva l'anticristo? Nel primo o nel secondo combattimento scatologico? Io non sono mica tanto sicuro. C'è chi dice nel primo e c'è chi dice nel secondo. O, cosa peraltro anche possibile, perché come vedremo adesso poi nel testo dell'Apocalisse, nel testo dell'Apocalisse, che tra poco vedremo, in realtà, stante agli esegeti, la decodificazione attraverso la numerologia ebraica del famoso 666, questo lo dicono gli esegeti molto molto più grandi di me, dava come prima interpretazione Nero-Cesar, cioè Cesare-Nerone, quindi il primo anticristo è stato Nerone. E in effetti con Nerone c'è stata la prima violentissima persecuzione contro i cristiani. Non sono stati i primi, perché già l'imperatore Claudio aveva fatto qualche restrizione, Caligola anche, però il primo a scatenare proprio la furia contro i cristiani è stato Nerone. Non è un caso che sia San Paolo che San Pietro sono stati appunto martirizzati sotto Nerone, secondo la tradizione, nello stesso giorno in due luoghi diversi, uno sulla strada Ostiense e l'altro al colle Vaticano, al circo Vaticano, Trans-Tiberim, San Pietro. Quindi questa misteriosa figura dell'anticristo non è detto affatto che sia una persona che nel corso della storia assume questo ruolo. Potrebbe essere, ripeto qui, l'interpretazione di questi brani è difficilissima, tant'è vero che non esistono interpretazioni ecclesiali autentiche, gli scrittori ci sono cimentati. Una linea interpretativa che personalmente mi trova, come dire, possibilista al riguardo. Su queste cose c'è sempre una adesione con riserva, no? Perché che ne so se è quella corretta. Però, sembra, andiamo a leggere anche il testo dell'Apocalisse prima di dire qualcosa su questo, no? Si trova nel capitolo 13, il famoso capitolo 13 del libro dell'Apocalisse, no? Quello che parla delle due bestie. Sare la prima bestia, capo, da una in poi, che aveva dieci corna e sette teste, sulle corna dieci diademi e su ciascuna testa un titolo blasfemo. La bestia che uvidi era simile una pantera con le zampe come quella di un orso e la bocca come quella di un leone. Il drago le dite la sua forza, il suo trono e il suo grande potere. Una delle teste sembrò colpita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita. Allora la terra intera, presa d'ammirazione, andò dietro alla bestia e gli uomini adorarono il drago perché aveva dato il potere alla bestia. Gli adorarono la bestia dicendo chi è simile alla bestia e chi può combattere con essa. Alla bestia fu data una bocca per proferire parole d'orgoglio e di bestemmi con il potere di agire per 42 mesi. Essa aprì la bocca per proferire bestemmi contro Dio e per bestemmiare il suo nome e la sua dimora contro tutti quelli che abitano in cielo. Le fu concesso di fare guerra contro i santi e di vincerli. Le fu dato ogni potere sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. La adoreranno tutti gli abitanti della terra il cui nome non è scritto nel libro della vita dell'agnello, immolato fin dalla fondazione del mondo. Chi ha orecchi ascolti, colui che deve andare a prigionire, vada in prigionia. Colui che deve essere ucciso di spada, di spada si è ucciso. In questo sta la perseveranza e la fede dei santi. E vedi salire dalla terra un'altra bestia che aveva due corna, simile a quelle di un agnello, ma parlava come un drago. Essa esercita tutto il potere della prima bestia in sua presenza e costringe la terra e i suoi abitanti ad adorare la prima bestia dove la ferita mortale era guarita. Opera grandi prodigi fino a far scendere fuoco dal cielo, sulla terra davanti agli uomini. Per mezzo di questi prodigi, che le fu concesso di compiere in presenza della bestia, seduce gli abitanti della terra dicendo loro di erigere una statua alla bestia che era stata ferita dalla spada ma si era riavuta. E fu anche concesso di animare la statua della bestia in modo che quella statua perfino parlasse e potesse far mettere a morte tutti coloro che non avessero adorato la statua della bestia. Essa fa sì che tutti, piccoli, grandi, ricchi e poveri, liberi schiavi, dicevano un marchio sulla mano destra o sulla fronte e che nessuno possa comprare o vendere senza avere tale marchio, cioè il nome della bestia e il numero del suo nome. Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza, calcola il numero della bestia, è infatti un numero di uomo e il suo numero è 666. Brani questi qui molto profondi, molto intensi, ma evidentemente oltremodo misteriosi anche qui. Tantissimi sono i commentatori che si sono cimentati, chi è la prima bestia, chi è la seconda bestia, chi è la bestia simile alla pantera, quella simile ad un agnello. Ci sono anche rivelazioni private, per esempio, chi conosce Don Stefano Gobbi. Secondo le rivelazioni che Don Stefano asseriva aver ricevuto da Maria Santissima, la Madonna stessa ha fatto un'attualizzazione abbastanza inquietante delle due bestie, definendo la bestia simile alla pantera la massoneria e addirittura una bestia simile ad un agnello alla massoneria ecclesiastica. Temi molto, molto scottanti, ecco, e molto, molto delicati. Sono tutte quante interpretazioni possibili, perché con questi, volevo capire, queste sono tutte quante immagini evidentemente simboliche, allegoriche, no? Quindi dietro un'immagine simbolica, allegorica, quante sono le fattispecie che sono compatibili, adombrabili? Tante, tante. Ecco, accennavo che il 666, però questo numero di colui che si oppone, quindi dell'anticristo, secondo alcuni non è semplicemente una persona, quindi è arrivato Nerone, l'anticristo è arrivato e abbiamo finito, no? Sono una serie di manifestazioni storiche di persone o di situazioni che si sono opposte formalmente, frontalmente, a Cristo e al suo regno, o con la violenza, oppure con l'eresia. Per esempio, sempre negli scritti di Don Stefano Gobbi, si abbraccia questo tipo di lettura, per esempio, tra le manifestazioni dell'anticristo, viene individuata addirittura, nel VI secolo circa, mi pare, la nascita della religione musulmana. Perché? Perché, di fatto, quella che è stata la predicazione di Maometto non è stato altro che un tornare a negare, costruendo però una nuova religione, asserita come rivelata, perché secondo Maometto è stato l'arcangelo Gabriele a dettagli il Corano, questo è quello che lui asserisce, e che cosa succede di fatto con l'Islam? Si ritorna al monoteismo ebraico, in forma differente, senz'altro, ma Gesù Cristo se ne parla bene, si parla bene anche della Madonna, quindi, ma si riduce Gesù a un ruolo puramente umano. Il più grande profeta, dopo Maometto, qui sono cose assolutamente inaccettabili, ma è chiaro che dentro un orizzonte, dentro un orizzonte cristiano, questa è una manifestazione anticristica, perché di fatto una posizione di questo genere va a sminuire clamorosamente poco dopo la vittoria definitiva della Chiesa contro la monumentale, gigantesca e pazzesca crisi ariana che era esattamente incentrata sulla negazione della vera divinità di Gesù Cristo, cioè primi sei concili ecumenici della Chiesa, l'ultimo è, stiamo nel VI secolo, con il Constantinopoli III, 581, cioè per sei secoli la Chiesa ha combattuto per riaffermare il dogma trinitario e la divinità di Cristo, i primi sei concili sono tutti su questo argomento, quindi capite che lotta che c'è stato, no? Poi ci sono state manifestazioni politiche dell'anticristo, un Robespierre per esempio o un Napoleone o uno Stalin o un Hitler insomma ci hanno serie possibilità di essere accostati a questo inquietante personaggio biblico, no? Che dovrebbe in questo senso indicare una sorta di personalità corporativa, di figura corporativa che conosce diversi livelli di attuazione nel corso della storia. Oggi c'è una realtà, oserei dire, anticristica in cui non è affatto escluso che emerga una figura concreta a mio avviso anticristica in carne e ossa ma che è l'espressione della quinta essenza di ciò in cui stiamo, cioè di ciò in cui siamo già immersi adesso. Amici, il mondo di oggi, lo dicevo anche nell'omelia di questa sera, è un mondo anticristico che si cerchi come dire di trovare soluzioni come dire asettiche concilianti l'Occidente almeno ha rigettato duemila anni di cristianesimo sostituendo duemila anni di cristianesimo con una cultura da loro chiamata laica è rivendicata con con fierezza dove ai valori cristiani tradizionali sono stati sostituiti degli anti valori non cristiani ha voglia a cioè gli esempi non corre farli sono sotto gli occhi di tutti no? li ho fatti cento miliardi di volte in tantissime catechesi pensiamo tutto quanto il mondo tecnologizzato dice parli tu che ci stai dentro fino al collo alla tecnologia stare dentro fino al collo da sacerdote nella tecnologia significa semplicemente utilizzare 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 uno strumento che ordinariamente non viene diciamo a quanto pare compiuto per fare il bene ma come appunto strumento per poterne fare un pochino questa è una cosa molto molto frequente con le opere celesti no? che il signore a volte si diverte a beffare il nemico trasformando in armi contro di lui ciò che da lui stesso sono pensate come armi contro il signore non so se riesco a spiegarmi no? quindi allora in questa visione che cosa succede se l'anticristo non è semplicemente una persona che compare nella storia ma una figura simbolico corporativa atta ad identificare le varie manifestazioni storiche che o a livello come dire di imposture religiose o di religione alternative o a livello politico quindi di aggressioni violente o ideologiche contro la fede che cosa succede che nel primo e nel secondo combattimento escatologico come dire chi in qualche modo incarna la persona lo spirito anticristico avrà una recrudescenza particolare no? perché sono momenti delicati della storia non solo dedicati nevragici decisivi andiamo a vedere adesso 1 Giovanni 2 18 22 che è l'altro testo molto importante che parla dell'anticristo figlioli questa è l'ultima ora come avete udito che deve venire l'anticristo di fatto vedete ora molti anticristi sono apparsi vedete che già San Giovanni ci dà una chiave di lettura leggo tutto e poi commento da questo conosciamo che l'ultima ora sono usciti di mezzo a noi ma non erano dei nostri se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi ma doveva rendersi manifesto che non tutti sono dei nostri ora voi avete l'unzione ricevuta dal santo e tutti avete la scienza non vi ho scritto perché non conoscete la verità ma perché la conoscete perché nessuna menzogna viene dalla verità chi è il menzognero se non colui che nega che Gesù è il Cristo l'anticristo è colui che nega il padre e il figlio guardate la sapienza di San Giovanni attenzione San Giovanni che ha scritto queste cose è lo stesso che ha scritto il libro dell'Apocalisse il 666 a due cose vengono da questo testo numero uno deve venire l'anticristo no sono apparsi già molti anticristi e nei primi già nei primissimi tempi le prime grandi eresie proprio in età apostolica quelle che San Giovanni nell'Apocalisse chiama i Nicolaiti erano gli ignostici e i docetisti eretici che negavano entrambi sotto punti di vista differenti che cosa? la divinità di Gesù Cristo ma tu guarda un po' ma voi capite perché tutte quante le manifestazioni anticristiche sono negazioni della divinità di Cristo perché l'anticristo è un'incarnazione dello spirito satanico è Satana ma Satana qual è stata la causa della sua ribellione? Lui si è opposto al disegno divino il che gli era stato rivelato e a cui doveva sottomettersi adorandolo dell'incarnazione e si è rifiutato di riconoscere come superiore a sé colei per mezzo della quale l'incarnazione sarebbe verificata che era Madonna allora qual è la sua azione storica? Negare la divinità di Cristo combatterlo in questo modo hai voluto farla questa cosa qui? Beh io farei in modo che nessuno ci creda così te la rendo inutile e vana questo è nel suo delirio folle allora ogni negazione colui che nega il padre il figlio colui che nega Gesù Cristo è il menzognero e quindi è una manifestazione dell'anticristo ecco perché la Madonna diciamo nel testo di Stefano Gobbi ha accostato la rivelazione dell'Islam a questo fenomeno perché ripeto l'Islam ha negato la divinità di Cristo ma i testimoni di Geova sono la stessa cosa i testimoni di Geova sono la stessa identica cosa e attenzione perché le forme raffinate ripeto guardate ci sono alcuni passaggi del Corano che parlano di Gesù e che parlano della Madonna che se uno li legge dice ma che bello ne parlano in termini veramente belli ma ma così come su uno sentito i testimoni di Geova parlano di Gesù in carità ne parlano benissimo ma 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 non è Dio Dio è uno solo capite capite proprio il il discriminante e quanto è importante no ecco prima di chiudere questa sezione andiamo a vedere la lettera romanica quindi attenzione non c'è il ritorno di Gesù nella gloria non c'è parousia fino a quando non si vedrà la la forma più estrema diciamo così di manifestazione anticristica primo secondo non c'è il ritorno di Gesù nella gloria senza conversione di Israele e andiamo a vedere la lettera romana come vi accennavo sono due capitoli anzitutto perché San Paolo parla di questa cosa nei capitoli dal 9 all'11 della lettera romana e leggere di tutti sarebbe complicato no però i versetti di 25 e 26 del capitolo undicesimo dopo che prima si si parla però forse è il caso di leggere l'inizio del nono anche all'inizio del capitolo 9 versetto 3 dice vorrei infatti essere lo stesso anatema separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli miei consanguine secondo la carne gli israeliti essi possiedono l'adozione a figli la gloria le alleanze la legislazione il culto le promesse dei patriarchi da essi proviene Cristo secondo la carne che è benedetto nei secoli però tuttavia la parola di Dio non è venuta meno e che cosa è sta parola di Dio che non è venuta meno c'è tutta quanto una lunga digressione di San Paolo che dura due capitoli e mezzo anzi quasi tre nove dieci e undici fino a quando si arriva al versetto venticinque e ventisei del capitolo undicesimo che dice così non voglio che ignorate che ignoriate fratelli questo mistero perché non siate presuntuosi l'indurimento di una parte di Israele è in atto fino a che saranno entrate tutte le genti allora attenzione tutto Israele sarà salvato come sta scritto da Sion uscirà il liberatore e gli toglierà l'impietà da Giacobbe e dice perché i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili quindi che cosa dice San Paolo applicando quel famoso aforismo evangelico ricordate quando dice Gesù che i primi saranno gli ultimi e gli ultimi saranno i primi fa questo ragionamento chi è stato il popolo dell'alleanza il popolo di Dio il primo a ricevere la rivelazione di Yahweh in persona è stato Israele da Israele è nato Cristo tutte quante le promesse fatte ad Abramo sono state ad Abramo non solo ad Abramo a Mosè attraverso i profeti si sono tutte compiute in Cristo che era ebreo uscito da lui e chiaramente nel disegno di Dio Israele si sarebbe dovuto convertire in massa aprendo anche ai pagani ma che succede? Israele non si è affatto convertire in massa anzi Israele si è indurito e allora che succede? succede che c'è una fase storica in cui il cristianesimo non può non ha conquistato Israele e quindi si va a ramificare in tutto il mondo per far entrare dentro il popolo di Dio tutte le genti ma i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili per cui Israele sta in stand by ma ci sarà un giorno in cui non qualche israelita questo è già successo nel corso della storia qualche israelita che si rinomenta al cristianesimo c'è sempre stato ma tutto Israele tutto Israele sarà salvato dice San Paolo non qualcuno e prima che questo accada la parousia non ci sarà ecco perché sicuramente non sarà stanotte la parousia fermo restando che a Dio tutto è possibile se vuole come dire rimescolare le carte lui può fare qualunque cosa molto difficile che smentisca quello che lui stesso ha detto però Dio ha sempre ragione ok quindi possiamo andare a dormire tranquilli diciamo così che Gesù non dovrebbe tornare questa notte non con la parousia anche se potrebbe bussare alla porta della nostra esistenza chiedendoci la vita questo sì ecco perché non si è convertito Israele non si è convertito Israele e quindi possiamo ancora attendere l'avvenuta del Signore quindi questo è un po' un quadro sommario dai contorni evidentemente sfocati perché quando si parla del futuro di ciò che non sappiamo i contorni sono necessariamente non troppo definiti e nemmeno definibili allora andiamo a vedere cosa ha detto il Magistero a proposito della parousia abbiamo non tantissimi interventi ma quelli che ci sono sono belli sobri ma incisivi allora il primo è molto antico perché risale al 382 dopo Cristo e al famoso Tomus Damasi cioè la professione di fede al Vescovo Polino di Antiochia in occasione del Sinodo di Roma nel 382 dopo Cristo nel numero 167 si legge questo anatema chi non avrà detto che egli siede nella carne alla destra del padre nella quale gli verrà a giudicare vivi e morti è eretico attenzione che il Tomus Damasi è tutto fatto così ma storicamente le asserzioni dei documenti vincolanti erano tutti quanti a un certo punto almeno nella forma se tu neghi questo o dici questo anatema sit sei eretico ereticus est o anatema sit quindi questo primo questa prima sobria ma eloquente affermazione del Tomus Damasi abbiamo poi la professione di fede di Papa Vigilio risalenta al 553 sul Densinger si trova al numero 414 leggermente più articolata meno apodittica leggo il figlio di Dio ha sofferto per noi è stato crucifisso nella carne è morto nella carne e il terzo giorno risorse affinché perdurando la sua divina natura non soggetta alla sofferenza e conservata la verità della nostra carne professiamo le sofferenze e i miracoli dell'unico e medesimo Signore nostro Gesù Cristo a ciò che il corpo di tutta la Chiesa in vista della glorificazione del nostro capo attenda ciò che vide nel nostro capo cioè in Cristo Dio e Signore come primizia dei morti anche in coloro che sono suoi membri sul miembro nella venuta della gloria futura dunque lo stesso Redentore che siede alla destra del Padre uno e medesimo senza confusione delle due nature e così noi crediamo continuando ad esistere da due e in due nature umana e divina ovviamente di là verrà a giudicare i vivi e i morti nel 638 dopo Cristo Densinger 492 abbiamo l'affermazione del sesto sinodo di Toledo questo Signore Gesù Cristo dunque mandato dal Padre accogliendo ciò che non era senza perdere ciò che era vedete questa espressione no? questa è un'espressione tipica della teologia ripeto accogliendo ciò che non era ossia la natura umana senza perdere ciò che era ossia la sua natura divina inviorabile per la sua realtà mortale per la nostra quindi in quanto Dio inviorabile e quindi immortale ma in quanto uomo mortale venne in questo mondo per salvare i peccatori e giustificare i credenti egli fece miracoli è stato consegnato a causa dei nostri delitti ed è morto per la nostra espiazione è risorto per la nostra giustificazione siamo stati sanati mediante le sue piaghe mediante la sua morte riconciliati con Dio Padre e risuscitati mediante la sua risurrezione aspettiamo anche che egli venga alla fine dei tempi e con la risurrezione di tutti renderà con il suo giustissimo giudizio ai giusti il premio e agli empi le pene io vi invito amici se è possibile a rallegrarvi con me cioè quando vedete in questi brani che stiamo leggendo a consolazione di tutti si respira proprio la chiesa quando noi nominiamo la chiesa amici cari quando nominiamo la chiesa dovremmo dovremmo fare un inchino di testa perché la chiesa è la sposa indefettibile del Signore la sposa purissima è senza macchia la sua purezza è senza macchia nei santi e risplende anche da un punto di vista come dire di comportamento quindi è un'immacolatezza morale consistente appunto nella santità ma c'è un altro aspetto dove risplende la sposa di Cristo cioè la dottrina purissima chiara amici cari senza espressioni ambigue facile facile chi è che non capisce questo questo versetto c'era quell'espressione vabbè ma se uno ci pensa un po' accogliendo ciò che non era senza perdere ciò che era altri modi di dire la stessa cosa è rimanendo ciò che era è diventato ciò che non era quindi è rimasto Dio mi è diventato anche uomo quindi respiriamo aria pura che è di questi tempi dove c'è tanta aria malsana in giro dove c'è quella che Martin Mosebach un bellissimo libro adesso introvabile chiamava l'eresia dell'informe cioè questi modi che oggi vanno purtroppo modi di moda ecco modi che vanno così di moda di andare a sfumare quindi a esprimere anche le verità di fede in maniera vaga incerta non chiara la sposa di Cristo non si è mai espressa così se uno si studia questo librone che ho in mano ora lo faccio vedere questo questo librone qui insomma che bello grosso so tante sono soltanto quanti sono ecco queste sono le appendici quasi duemila pagine di definizioni dogmatiche duemila insomma è tanta roba e qui c'è proprio il respiro della sposa andiamo a vedere un altro esplorato un altro bellissimo ecco il concilio lateranense quarto del 1215 sotto il grande glorioso papa innocenzo terzo quello che ha approvato la regola di san francesco ecco dice Densinger 801 un concilio bellissimo meraviglioso con le cui asserzioni dogmatiche si trovano dal numero 800 e seguenti del Densinger noi ci leggiamo 801 è quello che interessa di più a noi che è sempre quello sul nostro Signore il figlio onnigenito di Dio Gesù Cristo incarnatosi per l'opera comune di tutta la Trinità concepito da Maria semprevergine con la cooperazione dello Spirito Santo qui già su ognuna di queste frasi potremmo parlare mezz'ora divenuto vero uomo composto di un'anima razionale di un corpo umano una sola persona in due nature manifestò più chiaramente la via della vita immortale e incapace di soffrire secondo la divinità egli stesso si fece passibile e mortale secondo l'umanità dopo aver sofferto sul legno della croce ed essere morto per la salvezza del genere umano è disceso agli inferi è risorto dai morti ed è salito al cielo sentite che bello ma è disceso nella sua anima è risorto nel suo corpo ed è salito con l'uno e con l'altro ma spettacolo guardate sentite che bello agli inferi Gesù è disceso con l'anima ma è risorto col corpo e con l'anima il corpo è salito al cielo vedete che bello quando parla della sua umanità anima razionale e corpo perché perché c'erano alcuni eretici cioè i seguaci di Apollinare e di Laodicea gli apollinaristi si chiamano così che dicevano che Gesù aveva che Cristo aveva un corpo come il nostro ma non aveva un'anima perché le funzioni dell'anima le faceva la divinità quindi era un corpo abitato dalla divinità eresia perché se fosse un corpo abitato dalla divinità Gesù non sarebbe uomo come me e come te perché io per essere uomo dentro il mio corpo non ci abita mica la divinità ci abita l'anima razionale mia individuale ci abita l'anima creata da Dio col nome nuovo che soltanto Dio conosce e che è unica e ripetibile quindi il nostro Signore Gesù Cristo aveva un'anima immaginate l'anima di nostro Signore Gesù Cristo e come lo volesse stata però ce l'aveva e come? verrà alla fine dei tempi per giudicare i vivi e i morti e per compensare ciascuno secondo le proprie opere i reprobi come gli eretti attenzione ancora tutti risorgeranno coi corpi di cui ora sono rivestiti per ricevere secondo che le loro opere siano state buone o malvagie gli uni la pena eterna col diavolo e gli altri la pena eterna col Cristo guardate anche come è sempre chiaro nel parlare del giudizio della retribuzione dei malvagi e del premio dei giusti cose ovvie non vanno tutti in paradiso e non vanno tutti all'inferno ognuno sarà giudicato rigorosamente secondo le opere compiute in vita sia in bene che in male come scrive chiaramente San Paolo in una delle sue lettere una di quelle che si leggono durante le liturgie eseguiali tutti dobbiamo comparire dinanzi al tribunale di Cristo per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere compiute che era nel corpo sia in bene che in male questa è la fede divina e cattolica quindi quando ascoltiamo queste cose vi ricordate San Paolo se anche un angelo di Dio venisse a predicare cose diverse da queste che avete sentito non gli credete anatemasit una cosa molto importante prima di chiudere queste sono le asserzioni fondamentali ma più avanti quindi dobbiamo arrivare addirittura a Papa Pio XII per la condanna del millenarismo di cui abbiamo parlato la volta scorsa anche nella sua forma mitigata adesso vado a leggere proprio il testo 3839 il cosiddetto millenarismo chiliasmo questo in realtà è una pronuncia del santo uffizio cosa si deve pensare riguardo al sistema del millenarismo mitigato che insegna attenzione cioè che Cristo Signore prima del giudizio finale sia che preceda sia che non preceda la risurrezione della maggior parte dei giusti verrà in modo visibile per regnare su questa terra e ricordate il regno dei mille anni no? si dice che risorgono i morti e che Cristo viene a regnare con questi morti risorti per mille anni questo dice il testo dell'Apocalisse allora come dire c'è il millenarismo secco che dice succederà esattamente così i morti risorgeranno dei giusti e Gesù Cristo tornerà in forma visibile esattamente per mille anni questo è il millenarismo puro poi c'è il millenarismo mitigato come viene chiamato qui cioè risorgono o risordono sti morti non fa niente d'accordo? non fa niente mille anni o è un numero simbolico no? non fa niente ma c'è però un ritorno di Cristo sulla terra in modo visibile per regnare la risposta è il sistema del millenarismo mitigato non può essere insegnato senza pericolo attenzione questa non è una condanna assoluta perché non può essere insegnato senza pericolo significa qualificare questo millenarismo come dottrina si chiama così temeraria temeraria significa che è una posizione non tenuta quasi da nessuno dei grandi autori spirituali dei grandi padri della chiesa quindi tenuta da una assoluta minoranza per cui non è escluso che potrebbe avere un certo fondamento ma è oltremodo improbabile ecco è sempre prudente rimanere attaccati e agganciati sotto questo punto di vista alla dottrina sicura della chiesa ok quindi il millenarismo in forma mitigata è condannato come dottrina temeraria dalla chiesa ok ora facciamo un salto vediamo a che punto stiamo ecco cominciamo ad accennare un po' al catenismo della chiesa cattolica e dobbiamo leggerli alcuni passaggi perché di questi temi si parla specialmente un numero un numero che secondo molti commentatori pare avere abbastanza attualità allora si parla di questo di questi di questi temi nel catenismo della chiesa cattolica nei numeri dal 673 e seguenti sono diversi e dobbiamo andarli a leggere però alcuni perché sono molto 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 importanti allora cominciamo dal 673 che afferma come introduzione che la venuta di Cristo è imminente vuol dire che può compiersi in qualsiasi momento fermo restando però quello che abbiamo già focalizzato si legge dopo l'ascensione la venuta di Cristo nella gloria è imminente anche se non aspetta a noi conoscere i tempi i momenti che il padre riserva dalla sua scelta attenzione però imminente questa venuta è scatologica può compersi in qualsiasi momento la venuta del messia glorioso è sospesa in ogni momento della storia vedete al riconoscimento di lui da parte di tutto Israele cita romani 11 26 che abbiamo letto prima e tutto il resto del numero continua ad evidenziare questo punto fondamentale quindi di per sé può compersi in qualsiasi momento ma e con questo andiamo al numero 674 dipende dalla conversione di Israele è sospeso soprattutto a questo evento condizionante è adesso il brano più 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 discusso anche in tempi recenti molti hanno scritto su questo è il numero 675 prima della venuta di Cristo la chiesa deve passare attraverso una prova finale che scuoterà la fede di molti credenti la persecuzione che accompagna il suo pellegrinaggio sulla terra svelerà il mistero di iniquità sotto la forma sentite di una impostura religiosa che offre agli uomini una soluzione apparente ai loro problemi attenzione al prezzo dell'apostasia dalla verità e la massima impostura religiosa è quella dell'anticristo cioè di uno pseudo messianismo in cui l'uomo glorifica se stesso al posto di Dio e del suo messia venuto nella carne ora veramente amici io non voglio è come dire è difficile non vedere degli fortissimi punti di contatto tra queste parole e la realtà in cui siamo immersi prova della chiesa insomma la chiesa sta vivendo un momento di profondissima prova impostura religiosa sotto forma di soluzione apparente ai problemi al prezzo dell'apostasia dalla verità l'apostasia dalla verità oggi ahimè si registra e come si registra apostasia dalla verità e pseudo messianismo ecco la manifestazione anticristica che dobbiamo attenderci e che forse già è in atto dove l'uomo glorifica se stesso l'uomo si è messo al posto di Dio l'uomo si concepisce come capace di risolvere i problemi e di creare il paradiso della terra senza Dio e guardate che purtroppo anche dentro la famiglia di Dio una certa tendenza a la famosa svolta antropologica già dei tempi di Karl Rahner questo spostamento dell'asse dell'attenzione da Dio all'uomo si pensi anche a livello liturgico chi conosce chi ha conosciuto il vetus sordo della liturgia ma anche la stessa disposizione no? cioè non ci vuole la scienza infusa cioè tu hai la liturgia antica dove? altare rivolto verso l'oriente tabernacolo sull'altare silenzio che si taglia col coltello d'accordo? tanto per dire alcune cose tutti rivolti verso anche proprio come dire fisicamente no? gli sciocchi dicono ah ma una volta il sacerdote dava le spalle ma che dava le spalle? dava la faccia al nostro signore non dava le spalle al popolo che le spalle al popolo tutti quanti stavano rivolti verso il protagonista della liturgia che è Dio la liturgia è un atto di culto di adorazione offerta a Dio voi pensate no? a parte che non sta scritto da nessuna parte che è stata una moda che è nata adesso giri l'altare e ci si guarda in faccia gli uni con gli altri guardate che io ho assistito a celebrazioni dove ahimè lo dico con sofferenza il celebrante io sono un prete cioè consacro pure durante la consacrazione guardava in faccia la gente o quando alzava l'ostia anziché guardare l'ostia e adorarla come deve fare un sacerdote alzava l'ostia e mica guardava l'ostia con l'ostia per aria con gli occhi guardava le guardava le persone tutti sanno che io sono stato uno dei primi quando ci fu il motu proprio che mi conoscono di Benedetto XVI a celebrare la messa antica voi pensate che quando il sacerdote si gira nella messa antica a dire dominus fobiscum non può alzare gli occhi cioè per tutta la messa tu la gente in faccia non la guardi proprio ma non è che non la guardi perché la disprezzi non la guardi perché tu quando celebri gli occhi il cuore la mente è fissa verso il Signore cioè in quel momento siamo tutti quanti concentrati verso il Signore non è che non ci vogliamo bene gli uni con gli altri ma siamo tutti polarizzati verso quel fine non a guardarci in faccia gli uni con gli altri sono cose significative cioè dello spostamento capite dall'attenzione da Dio all'uomo pseudo messianismo in cui l'uomo glorifica se stesso al posto di Dio e del suo messia venuto nella carne avanti 676 e poi ci fermiamo per oggi questa impostura anticristica si delinea già nel mondo ogni qual volta si pretende di realizzare nella storia la speranza messianica che non può essere portata a compimento se non al di là di essa attraverso il giudizio escatologico anche sotto la sua forma mitigata la Chiesa ha rigettato questa falsificazione del regno futuro sotto il nome di millenarismo soprattutto sotto la forma politica di un messianismo secolarizzato intrinsecamente perverso 677 la Chiesa non entrerà nella gloria del regno che attraverso quest'ultima Pasqua nella quale seguirà il suo Signore nella sua morte e risurrezione il regno non si compirà attenzione dunque attraverso un trionfo storico della Chiesa secondo un processo ascendente ma attraverso una vittoria di Dio sullo scatenarsi ultimo del male che farà discendere dal cielo la sua sposa il trionfo di Dio sulla rivolta del male prenderà la forma dell'ultimo giudizio dopo l'ultimo sommovimento cosmico di questo mondo che passa teniamolo presente quindi c'è un momento in cui c'è un fortissimo scatenarsi del male e proprio in quel momento arriva la parusia analogamente così ci ricongiungiamo a quanto detto nella scorsa puntata nel primo combattimento scatologico c'è uno scatenarsi furioso del male e proprio quando sembrerà che questo male abbia vinto e che non ci sia la possibilità di fermarlo con mezzi umani anche sostenuti dalla grazia verrà la sua fine quindi vedete che questo è il catechismo della chiesa cattolica quello del 92 è impressionante veramente vedere come cose scritte veramente 30 anni fa adesso veramente sembrano prendere carne prendere forma in maniera ahimè molto molto dolorosa ma purtroppo io credo innegabilmente realistica anzi reale bene amici possiamo darci appuntamento alla prossima settimana Dio vi benedica e la Santa Vergine tutti e sempre vi protegga grazie a tutti